buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 3 settembre 2024 sono pronti i giornali sulla nostra scrivania corriere adriatico resto del carlino modo particolare per quanto riguarda le cronache locali della provincia di pesaro ma anche qualche notizia che proviene da altre province delle marche vediamo subito il santo del giorno oggi è san gregorio magno eccolo qua un grande papa visse nel sesto secolo fu un papa che si distinte che si distinse per una profonda energia era molto molto attivo ma anche per l'amore per la verità e la giustizia e per i suoi scritti intervenne personalmente per la difesa di roma e dell'italia assalita dai barbari e grazie alla sua opera scomparsero i primi gli ultimi anche gli ultimi residui di superstizione della religione pagana la religione pagana quella degli idoli quella degli dei non scomparse subito al terzo secolo ma continuò a perdurare fino appunto il quarto il quinto e forse anche il sesto secolo in alcune in alcuni in alcuni territori circoscritti che poi ovviamente sparirono ebbene questo è per quanto riguarda il santo ora possiamo così dare un'occhiata anche le previsioni del tempo guardando la cartina di tutte le marche ecco il meteo instabilità pomeridiana nelle zone interne appenniniche meglio su coste e sub coste massime sui 31 34 gradi e ieri comunque un piccolo acquazzone che ha così toccato toccato fano ha un pochino abbassato la temperatura ma già questa mattina siamo ai livelli di ieri i venti per lo più sono deboli da est e sud est sulle coste da est e da sud est invece nell'entroterra le temperature 20 la minima 29 30 ma anche 34 gradi la massima il sole è sorto alle 6 e 32 tramonterà alle 19 e 42 ora possiamo aprire i giornali a partire oggi dal corriere adriatico la pagina di fano riguarda i movimenti che sono stati fatti su scelte del vescovo di fano cagli fossombrone pergola andrea andreozzi in merito appunto la nomina dei nuovi parrici nuovi incarichi che sono stati attribuiti il valzer dei parroci indiocesi e i frati intanto lasciano san paterniano ma ci sarà ancora un anno di tempo per cercare di trovare una nuova gestione per questa storica basilica per questo storico convento dato che i frati capuccini lo gestiscono ormai da 500 anni sono veramente una presenza storica nella città di fano ebbene in questo mese in cui si concretizzano le nuove nomine decise dal vescovo andrea andreozzi nel giugno scorso per quanto riguarda la gestione delle parrocchie e l'assetto degli organi collegiali di tutta la diocesi siamo in fase di spostamento è proprio in questo periodo che gli nuovi incaricati fanno il loro ingresso nel nuovo ruolo nel nuovo territorio c'è tutta una situazione logistica quella più concreta quella di portare via armi e bagagli trovare un alloggio insomma tutto quello che concerne uno spostamento anche un esodo da parte di alcune famiglie che si spostano da un appartamento all'altro ebbene questo interessa anche i sacerdoti che devono assumere nuovi incarichi ebbene c'è anche una precisazione di Monsignore Andreozzi che afferma come i nuovi incarichi non si riferiscono soltanto ad un ambito ristretto come potrebbe essere quello parrocchiale ma il parroco deve interagire con tutte le comunità vicine deve mettersi a disposizione di tutto il territorio perché ormai le parrocchie non sono più un ambito a loro stante, a sé stante ma sono una realtà missionaria che insomma si apre verso tutto il territorio e bisogna interagire l'uno con l'altro per quanto riguarda appunto questi ambiti territoriali a Mondavio si è già insediato il nuovo parroco Don Marco Moschini proveniente da Orciano che ha preso il posto di Don Michele Giardini che è venuto ad abitare a Fano assumendo l'incarico di direttore della Caritas al posto di Ettore Fusaro cerimonia dell'accoglienza e dell'insediamento di Don Moschini a Mondavio è stata partecipata nei giorni scorsi da una moltitudine di persone e il parroco ormai si è insediato e ha preso già così il contatto con tutta la popolazione con tutti i suoi fedeli a Pergola invece il parroco Don Filippo Fratelloni che è stato nominato vicario generale sta ancora ultimando il suo lavoro nella cittadina cesanense prima di andarsene pur iniziando però il suo impegno nel nuovo ruolo quello di vicario in questo momento è a stretto contatto con Don Marco Presciutti che si sta preparando ad insediarsi a Pergola per rivestire la carica di parroco di Pergola, Frontone, Serra Sant'Abbondio e per il territorio sub-Appennino anche piccoli comuni che sono appunto alle pendici degli Appennini definito un anno dalla sua presenza a Fano l'assetto della Diocesi il Vescovo avrà un anno di tempo per pensare come sostituire la comunità dei frati Capuccini a San Paterniano soprattutto è importante la gestione, salvaguardare la gestione della mensa di San Paterniano che è una realtà sociale di grande importanza non solo per coloro che vengono a Fano per trovare un nuovo futuro ovvero gli immigrati ma anche per tanti fanesi che purtroppo si trovano in difficoltà e fanno riferimento appunto per un pasto alla mensa di San Paterniano ebbene questo è un po' l'assetto per quanto riguarda il mese di settembre e l'assetto della nuova Diocesi ed ora parliamo di una festa parliamo di una festa perché domenica si sono celebrati 50 anni di lavoro per il patron dei supermercati Conard chi è il patron è Arido Severi Arido Severi è un personaggio speciale è un imprenditore affermato ma è anche una persona molto schietta, molto alla mano molto disponibile è aperta anche a certe istanze di carattere sociale ed è insomma un amico di tutti un amico che non pone barriere tra lui e le altre persone ma è una persona appunto molto disponibile ha festeggiato domenica scorsa con centinaia di invitati alla cooperativa Tre Ponti i suoi 50 anni di attività ebbene lo ha fatto facendo indossare indossando lui stesso ma facendo indossare anche i suoi amici che poi hanno servito a tavola una maglietta con una scritta con una scritta in dialetto fanese mezzo secolo di lavoro e ancora Enzo Strac ha detto mezzo secolo di lavoro e ancora non sono stanco per evidenziare l'attaccamento alla sua impresa e soprattutto l'impegno per assicurare il lavoro a tanti giovani ora ha 115 dipendenti la sua società è titolare del supermercato Conad di Via Togliatti quello di Sant'Orso quello di Lucrezia ha cominciato a 14 anni facendo l'operaio in fabbrica poi ha pensato a fare il muratore alla Coedil erano gli anni 80 poi quando l'impresa è fallita ha avuto l'idea di investire i suoi pochi risparmi in un'impresa di carattere commerciale ma è stata un'impresa che condotta con oculatezza ha avuto fortuna e ora è una realtà molto importante che non è solo una realtà di quartiere ma è una realtà, dobbiamo dire, territoriale passiamo ora alle altre notizie vediamo ancora sul Corriere Adriatico un'iniziativa che è stata presentata ieri dall'amministrazione comunale alla Mediateca Montanari si tratta di Settembre Pedagogico ambiente digitale e pace per qualificare la scuola sono dei corsi di formazione aperti al pubblico ma sono indirizzati soprattutto agli insegnanti sono appuntamenti che riguardano tanti tanti argomenti sono delle relazioni sono delle iniziative sono dei laboratori e si torna a scuola per ricominciare ad imparare come fare la scuola al meglio lo strumento è appunto questo Settembre Pedagogico che fino al 26 settembre prossimo sarà organizzato con tante tante conferenze alla Memo si tratta dell'ottava edizione di una rassegna che riafferma l'eccellenza dell'offerta educativa presente nella città di Fano e ieri l'ha presentata il sindaco Luca Serfilippi con diversi esponenti dell'amministrazione comunale rimaniamo a Fano perché c'è un problema di carattere sanitario tutti coloro che vogliono così debbono anzi eseguire sottoporsi ad un esame della MOC e chiedono all'ospedale quanto posso prendere un appuntamento non trovano risposta non si danno appuntamenti all'ospedale Santa Croce per fare la MOC che cos'è la MOC? è la mineralometria ossea computerizzata nota anche come densitometria ossea serve appunto per prevenire l'osteoporosi che è una delle malattie che insorge nell'età avanzata soprattutto alle donne e che potrebbe così prevenire il pericolo di cadute per la fragilità delle osse e tutto quello che poi ne deriva per le fratture e via dicendo insomma è un problema è un problema serio ma chi sotto prescrizione del medico di base deve eseguire questo esame non può rivolgersi all'ospedale Santa Croce perché le liste sono chiuse questa signora che evidenzia la denuncia è in attesa dal mese di marzo e tra pochi giorni gli scade addirittura la ricetta per fare un esame avrebbe dovuto andare a Sasso Corvaro o a Pergola e chi non ha una possibilità di trasferirsi il problema rimane e l'unica soluzione è quella di rivolgersi poi ai laboratori privati spendendo dei soldi e pagando di tasca propria insomma questo ospedale Santa Croce che a parole si dice che deve essere un ospedale di primo livello che deve dare prestazioni qualificate alla fine anche per un semplice esame alza bandiera bianca e così certamente non va dibattito sulle criticità del sistema sanitario domani alle 21 a Cagli c'è un'iniziativa intitolata è un un'iniziativa intitolata la salute dipende da noi non da loro in preparazione una mobilitazione contro il G7 sulla sanità che avrà luogo il prossimo ottobre ad Ancona si tratta di un movimento politico regionale che si definisce dipende da noi che organizza una serie di eventi appunto dal titolo di cui che abbiamo detto ed ora parliamo di archeologia parliamo di archeologia perché oggi c'è un appuntamento importante a Calmazzo ed è la prima delle dieci conferenze archeologiche programmate dalla Università di Urbino in collaborazione con la rete museale della Via Flaminia per celebrare il cinquantesimo degli scavi di Forum Semproni la città di Fossombrone l'appuntamento è alle 19 a Calmazzo a Calmazzo dove si terrà una conferenza del professor Oscar May che è il docente di archeologia dell'Università di Urbino il professore farà luce sul recinto sepolclare della Gense Cissonia di Calmazzo appunto e parlerà anche il dottor Lorenzo Cariddi sulla fabbrica di ceramica e laterizi trovata a poca distanza nel corso di scavi per realizzare un insediamento industriale gli scavi a Forum Semproni iniziarono nel 1974 sotto la direzione di Mario Luni e dovrebbero essere valorizzati di più tenendoli aperti a disposizione di un turismo archeologico che specialmente nella nostra provincia vanta molte risorse e molte fonti di attrazione appunto di amanti di questo genere di turismo passiamo a Mondolfo Tamburello trasferta vincente ora si punta alle finali nazionali si tratta del gruppo sferistico di Mondolfo che è in corsa per la fase conclusiva della serie C vediamo anche la pagina di Senigallia ebbene anche qui c'è un problema di carattere sanitario quindi non solo nella provincia di Pesaro Urbino come abbiamo visto con la Moc ma qui c'è addirittura un macchinario che dovrebbe essere molto molto importante per gli esami al cuore che va fuori uso ebbene a una signora le fissano una visita al cuore finalmente è arrivato il suo turno si dice ma niente da fare quando arriva proprio il momento di fare l'esame il macchinario si scopre che è fuori uso da tre mesi e probabilmente chi ha dato l'appuntamento non sapeva di questa disfunzione la beffa è per una 48enne senigallese che aveva aderito alle liste di garanzia perché appunto con un appuntamento normale non riusciva a fare il suo esame ebbene è stata informata quando è andata lì in reparto per fare l'esame ma gli hanno detto ma cosa viene a fare il macchinario è fermo da tre mesi queste sono un po' le disfunzioni che non vanno bene e non vanno bene nemmeno i comportamenti di certi allevatori che fanno del male ai loro animali in questo caso si parla di uccelli di uccelli da richiamo che sono stati maltrattati lo hanno accertato i carabinieri forestali che hanno compiuto un sopralluogo nell'ambito del traffico di un allevatore si tratta di richiami per la caccia che sono stati individuati in una situazione veramente brutta perché erano delle gabbiette molto molto piccole piene di guano insomma erano veramente maltrattati e costretti a vivere in minuscole gabbie tra gli escrementi ebbene in questo caso un allevatore è stato deferito alla giustizia vediamo anche la pagina di Pesaro sul corriere adriatico l'apertura è dedicata alla siccità per cui il sindaco Andrea Biancani è stato nominato almeno per il momento ad interdim presidente dell'ATO l'ATO è la autorità d'ambito che si occupa appunto della fornitura dell'acqua della siccità in questo caso il comitato tornerà a riunirsi giovedì 5 con lo spettro del razionamento insomma siamo a settembre e ancora perdura questa mancanza d'acqua questa carenza d'acqua che sta creando problemi non solo per il rifornimento potabile ma anche per quanto riguarda le esigenze dell'agricoltura e per il sindaco Andrea Biancani l'unica possibilità è quella di ripulire dal fango gli invasi che contengono riserve d'acqua perché il fango è salito molto verso la superficie e la capienza degli invasi si è drasticamente ridotta ad oggi permane la stato di crisi con l'apertura di due pozzi di emergenza che sono presenti nel territorio quello di Sant'Anna e quello del Burano stabilendo una missione di 150 litri di acqua per il primo e di 240 litri al secondo per l'altro è stato peraltro diminuito il travaso d'acqua dall'invaso del Furlo in quanto nel frattempo è cresciuto abbastanza il San Lazzaro quello di San Lazzaro che è più a valle del Furlo in modo tale da equilibrare i valori di entrambi intorno al 60 65% ma sono provvedimenti questi che non risolvono la situazione occorre creare nuovi invasi e tenere in modo molto molto efficiente quelli esistenti da mesi senza la pioggia le zorle sono come pietre gli agricoltori in questo caso pucci padre e figlio contano i danni della siccità ebbene i danni della siccità sono molto evidenti girando per le campagne si trovano foglie accartociate frutti piccoli e ragrenziti ebbene insomma il raccolto soffre e il raccolto sarà quello poi dell'olive l'uva è in questo momento lo stesso in atto la vendemmia insomma ci sono problemi veramente drastici per quanto riguarda l'agricoltura e per il sindaco Biancani si interviene ancora per ripulire i tombini puliremo 250 tombini a settimana molte salate perché ci butta i rifiuti caspita almeno questo dopo i disagi dell'ultimo nubifragio comune marche multiservizi programmano una manutenzione serrata in modo da non avere i danni che si sono determinati con nell'ultimo temporale vediamo anche questa notizia di cronaca saccheggiano tinte per capelli rintracciate al campo nomadi due giovani ladre che erano irreperibili dal 2021 sono state scoperte durante un controllo ebbene e nel loro campo sono stati individuati dei prodotti per le tinte dei capelli insomma che hanno un discreto valore la mucillagine è sparita ma non sono spariti i problemi i pescatori danneggiati chiedono aiuto lo chiedono alla regione lo chiedono al governo e intanto si è riunita la nonna commissione e l'appello della presidente Annibali alla regione per avere i ristori insomma il problema è stato molto molto sentito e è stato molto gravoso per quanto riguarda i danni provocati da queste alghe che erano o in sospensione o nel fondo del mare a Urbino Urbino si è collerata di giallo ebbene sono i colori di Hong Kong Hong Kong è una contrada di Urbino che si è confrontata nella festa dell'Aquilone Aquilone e anche solidarietà gioia in centro dei contradaioli di Hong Kong raccolti 31.000 euro per senologia e questo è un aspetto non secondario di questa festa che è uno spettacolo veramente coinvolgente ma che è anche un risultato concreto quello appunto di raccogliere fondi per un aspetto sociale e sanitario come quello appunto di Urbino ed ora diamo un'occhiata anche al resto del Carlino l'apertura a Sufano è così dedicata a un problema che ha coinvolto in pieno ieri l'amministrazione comunale i cui sistemi computerizzati sono andati in tilt ma questo problema ha investito anche un territorio molto molto più ampio cavi tranciati per sbaglio web web il mondo del web il mondo del virtuale è andato in tilt tutto questo ha provocato caos in comune l'attività degli uffici è stata paralizzata per tutta la mattinata si sono creati disagi e disservizi anche per l'utenza il sindaco Sir Filippi ha dichiarato sarà nostra priorità rafforzare i sistemi anche per quanto riguarda la sicurezza non deve succedere più quello che è accaduto ieri ebbene che cosa è accaduto ieri ieri è accaduto che hanno tagliato per sbaglio per sbaglio i cavi internet e tutta la rete è andata in tilt è accaduto ad alcuni operai che stavano facendo un intervento un intervento a territorio molto più ampio un danno che è stato provocato afferma il giornale dalla società Fibercop gestore dell'infrastruttura di rete fissa il problema è stato causato no è stato causato da una ditta che mentre stava eseguendo lavori per la rete idrica in località Candia che è una località in provincia di Ancona ha tranciato quattro cavi ad elevata potenzialità trasmissiva i tecnici di Fibercop sono intervenuti ed è stato un bel problema riaggiustare il tutto cosa che è stata fatta comunque nel pomeriggio nel pomeriggio il problema si è risolto ma nella mattinata ha coinvolto ben 7.000 utenze in tutta la regione mar ed ora parliamo anche di un lutto è morta una signora che domenica scorsa aveva compiuto cent'anni per lei si era preparata una bella festa quelle belle feste che si allestiscono per fare gli auguri alle persone che compiano un secolo di vita però la signora il giorno dopo è deceduta ed era la mamma di Ilario Gaggi Ilario Gaggi un fotografo appassionato amatoriale sempre presente in tutte le manifestazioni di fan aveva preparato insieme ai suoi fratelli una bella festa per festeggiare la mamma purtroppo la mamma in quel giorno non era nelle condizioni di essere festeggiata si sentiva male era a letto e il giorno dopo purtroppo è deceduta compie cent'anni e muore voleva una grande festa è passata dalla gioia al dolore la famiglia di Elvezia Alessandrini deceduta ieri il giorno dopo dopo aver tagliato il traguardo del secolo purtroppo veramente un lutto che è passato dalla gioia al dolore i suoi funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di San Giuseppe al Porto poi l'ultimo viaggio verso il cimitero centrale dove già riposano i suoi genitori i tre fratelli e la sorella quadruplicare la ferrovia mancano i soldi e mancano gli atti l'ho detto l'ingegnere Catraro che smentisce l'onorevole Mirko Carloni che aveva annunciato nei giorni scorsi il progetto di esecuzione del raddoppio del tratto tra Bologna e Castel Bolognese insomma la cosa è ancora in alto mare e aspettando che si definisca noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto